il porno è stata la mia salvezza, non la mia dannazione, perché mi ha aiutato ad uscire dalla depressione, così Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi, reduce dal successo della il porno è stata la mia salvezza, non la mia dannazione, perché mi ha aiutato ad uscire dalla depressione, così Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi, reduce dal nella serie che sta riscuotendo enorme successo, tra le più viste in Italia ma anche in 62 due paesi nel mondo, si racconta anche del suo rapporto con l'indimenticabile Moan, era una donna fortissima e di gran classe, ma non l'ho mai vista come una porno, aveva la melanconia di una ragazza triste dentro, io ero infelice per la perdita di mia madre mentre lei nascondeva un altro segreto dice l'attore oggi, assicurando che tra loro non c'è mai, aveva la melanconia di una ragazza triste dentro, io ero infelice per la perdita, so che sembrerà strano ma la vedevo come una sorella, passavamo molto tempo a parlare e a con si freddi racconta di non essere più intenzionato a tornare sul set, non ho più il physique du rôle, a 55 anni ho deciso di smettere di recitare perché è iniziata una crisi mia, vedevo queste ragazzine di da 18 a 20 anni che volevano lavorare con me ma mi sono sentito in, ha superato la dipendenza dal sesso? Più che altro ho imparato a controllarmi, continua, non sono mai andato da uno psicologo, ne sono uscito grazie a mia moglie che è stata una tal, ha superato la dipendenza dal sesso? Più che altro ho imparato a controllarmi, continua, non sono mai, questa dipendenza è durata ben 15 anni, ricordasi freddi, appena vedevo una donna, ma anche un uomo o un transessuale non riuscivo a trattenermi, ci dovevo far, era come se dentro di me ci fossero due personalità e una volesse, penso sempre che qualcuno mi ha protetto da lassù, sarei potuto morire di HIV ma quando soffri di dipendenza non c'è malattia del suo rapporto con la moglie Rosa Tassic da cui ha avuto due figli, Lorenzo e Leonardo, Rocco aggiunge, siamo molto uniti, non siamo famiglia fake ma una famiglia ve, se mia moglie dovesse improvvisamente guardarmi con occhi diversi e decidere di non amarmi più per un altro uomo penso che morirei, sono 30 anni che stia e ancora, da quando ho abbandonato il set il sesso tra di noi è molto più bello, Rosa mi dice sempre, Rocco come sei diverso da quando hai smesso di recitare confida ancora l'attore, stare tutto il giorno su un set di un film porno, tornare a casa e fare il marito era merito, Rosa mi dice se non è facile per una donna aspettare a casa un marito che fa il porno attore, mia moglie è stata, progetti per il futuro? Mi hanno proposto di recitare come protagonista in un film drammatico che si ispira alla vita di Davide C, l'ho incontrato sul set del film di Massimo Boldi Matrimonio a Parigi dove era assistente alla Re, dopo aver visto la mia intervista alla trasmissione Belve mi ha telefonato e mi ha detto, dentro di te hai un dolore talmente forte che sei l'unico attore che mi viene in mente che possa interpretare quello che ho, inizieremo a girare il film in autunno tra l'Abruzzo e Budapest, credo che la drammaticità sia una cosa che fa parte della mia vita, non mi vedo nella veste di attore comico, io al massimo sono ironico ma mai comico, concludo